Matrimoni spiaggia, è questa la novità pescara per le coppie che decideranno di scambiarsi la promessa coniugale in Rivalmare. Uno scenario da romanzo, luogo prescelto alla Madonnina, una lunga passerella condurrà ad un gazebo che ogni coppia potrà decidere di allestire a proprio piacimento. Comunque è stato un importante lavoro di squadra, appunto degli uffici che hanno creduto in questo progetto, dare la possibilità quindi a quelle coppie che per varie ragioni non vogliono fare rito in chiesa, di avere una location che possa soddisfare e possa realizzare un sogno nel giorno più bello della loro vita. Ovviamente c'è stato tutto un procedimento e un'evoluzione normativa. Per riuscire ad ottenere lo svolgimento delle unioni civili sulla sabbia si è ricorso all'articolo 3 del DPR 396 del 2000, che prevede lo svolgimento delle unioni in altro luogo purché in prossimità delle pertinenze delle case comunali. Dunque è stato predisposto l'allestimento di un ufficio comunale all'interno del Museo del Mare, quello antistante la spiaggia della Madonnina. Ecco dunque superato l'ostacolo giuridico. Individuato con una struttura molto semplice, dove ovviamente poi potranno le coppie allestire secondo il proprio gusto, secondo le proprie possibilità, proprio da rendere quel giorno personalizzato. E ovviamente tutto questo poi non dobbiamo dimenticare che avrà una doppia valenza, cioè un'utilità comunque sociale perché nei giorni in cui non si celebrerà il matrimonio il camminamento che verrà realizzato appunto sulla spiaggia potrà essere utilizzato da disabile appunto per raggiungere i luoghi più vicini insomma al mare. Infine il lato economico. La novità sarà foriera di entrate per le casse comunali di Pescara. 600 euro per i cittadini interessati, se non residenti e 500 euro per i pescaresi. Da aprile a settembre si inizierà a procedere con i matrimoni da favola. Ci dà la possibilità, vista la situazione in cui ci troviamo, di iniziare a ragionare non come un'impresa ma similmente. E questo darà la possibilità ovviamente al comune di fornire un servizio che comunque è gradito alle coppie ma allo stesso tempo appunto di aiutare le casse comunali.